La Cassazione, pur ribadendo la possibilità della richiesta dei danni anche in ambito familiare, non rileva nessuna lesione di diritti fondamentali e particolarmente dell'integrità fisio-psichica della moglie. Riscontro negativo si legge nella sentenza che la ricorrente è solo genericamente avversa, omettendo di dedurre l'esistenza di circostanze atte ad integrare gli estremi della invocata tutela risarcitoria.